ma non si sente eeeh Dario entra assolutamente sul gta per noi si dice sta partita e poi si sta in vita perchè mi hanno mandato mi hanno mandato il gta al gioco e non online vai online vai online guarda Sirius pronti a farlo usare e qui all'inizio non riesco mai a prendere i lanciari anzi mai ma perchè non dobbiamo terra? ho paura guardalo guardalo barbebide barbebide resto che per tutta ma che cazzo perchè sono scurita oddio 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 ecco sono morto ma c'è uno che fa armali ma perchè eh so io watch you worry worry watch you worry worry watch you worry worry oh eh siete morti voi? si io si watch you worry worry bu 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 eh che muove sei 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 707 di rango bestia guarda Fantozzi guarda Fantozzi guarda Fantozzi oddio bugge c'è'ne del male lui è fa il fervo gli fammi capire è il bimbi è quello che dice al bimbi il bimbi no ma non mi sa non mi sa ma non ci metta a fare online no Ma, ma... Nooo. Vai, fantossi. Voglio inizienne una. Oh. Oh. Vai, vai! Nooo, guarda. Ma questo è qui che non spara. Boh, bravo. Bravo, fantossi, cazzo. Barba e bidet. Madonna, ma quanto cazzo è forte? Guarda, guarda. Fantossi è forte, vuol dire che è forte. Guarda gli scrivo un messaggio privato. Bravo, fantossi. Barba e bidet. Barba e bidet. Ehm. Ehm. No, ma non l'ha di tutto. No. Ora sì. Oddio. Cioè, dei riflessi di ormona... di ormoni. Ma poi guarda, va nel bordo e mi casca. Bimbo è prenatura proprio. Ehm è di tredicenne che dicevo... Ehm è fortnite. Sì sì. Il bimbo fortnite... Non mi si muove? Dai fantossi. Dai cose, fam Farci. ma il cazzo fa stavi ah quest'altro non si sa è Giacomo ah ma solo lui è buono a pigliare di tutti è difficilissimo prendere le macchine a sti cazzo di razzi come è possibile fantozzi a livello 7 ma fantozzi sicuramente sarà un altro account è l'esperienza di fortnite eh boia guarda se si perde due contro uno eh dai no non avrei parole mai fa questo fatto col buco di questo gioco si ma anche perchè prima perchè abbiamo perso non c'è se è capita sta cosa ecco oh dacci nostri 11.000 eh forse 12.000 po 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 co tu 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 si cazzo è si cazzo u quantozza le dici due Perché è rinventato il diavolo? Rinventato giapponese Questo è tipo Babun Ha detto la parola giapponese E poi è uscito Dario, dimmi che stavi streamando e registrando, ti prego Sì Dai, Deppi Oddio, voglio Eh, tipo, poi è stata posseduta? Dai, Deppi Togepi Togepi No È bello Ma ci sarà sempre, non lo so, cioè magari Eccola Eccola Che è successo, Rita? No, è possibile usare chat vocale C'è il Nat, Rita, c'è il Nat Ma c'è, io non capisco Non ho capito se comunque sta giocando O O O proprio è via Via Non lo so Guarda se è nella partita Eh, mo' è un casino Namo Dio santo Vabbè, almeno quello Rita C'è 10 minuti, raga Sto ancora a fare joining GTA Online Ah Ah, ti sei impallato, Dario Riavvialo Ah, madonna Eccolo Cristo di Dio Che cazzo era? Che cazzo era? Ho sentito? Si sono tutti suicidati Ma che è successo? Tu? Ma è finito, cioè Ma che cazzo? Cioè, allora, io vedo le macchine che vanno Però sparita l'interfaccia No, io vedo ora vedo che ti può essere tutti suicidati ma la partita va avanti non capisco per il resto sblocca messa allora non so io basta se ci sta allora sono al psn ecco vincitori ok peso sono usciti tutti la tattora poi si imita Dario e si vola si guadagna un botto di soldi Dario sta modalità eh ma com'è è tipo quella lì del lanciamissili con le macchine ok però è uguale ma con un modo diverso oh oh eh mi sentivo a scatti prima vabbè sei tipo uscita in una maniera ci siamo piegati in due tutti se si dì tipo hai fatto ah ehi hai fatto tipo hai fatto tipo hai fatto tipo hai fatto togepi uscita hotel che totale è tipo disposeduta da una geisha da una geisha debole e tipo Dario ha registrato tutto è tutto documentato Dogepi Vabbè io esco perché You need to try You can't eye it